1944 Roma liberata dalla quinta armata americana 1942 Seconda guerra mondiale inizia la battaglia delle Midway 1944 ucciso Bruno Buozzi dai tedeschi in fuga Commenta il fatto del giorno Michele Brambilla, direttore di Quotidiano Nazionale È l'anniversario della prima vittoria di Solidarno sul movimento che ha cambiato la storia del Novecento europeo